Voi siete noti soprattutto per il tipo di lavorazione del gelato, in cosa consiste? Cerchiamo di lavorare con un'etichetta pulita, meno ingredienti possibile e rispettare la tradizione in famiglia di fare un gelato naturale con pochi ingredienti e a chilometro zero. E tra l'altro fate anche dei gusti molto particolari? Sì, da sempre sperimentiamo gusti nuovi tipo la banero, l'anno scorso oppure gusti ai formaggi tipo la gorgonzola, la bufala o anche semplicemente il peperone, il pomodoro, la carota. Oggi c'è la grappa, il sedano e il basilico, e questo è il nostro basilico, fresco da sbagliare. Buongiorno mattino. Buongiorno mattino.